Ucciso per un regolamento di Conti in amore, finalmente è stata fatta piena luce sull'omicidio del 32enne di Valverde Massimo Pappalardo ritrovato carbonizzato all'interno della propria Toyota Igo incontrata Poggio Monaco a Paternò lo scorso 8 marzo. I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno fermato il 42enne Massimo Di Stefano e il 54enne Giuseppe Sciurello. Pappalardo, dopo una serata trascorsa con la compagna, l'aveva riportata a casa. Alle due e mezza circa la donna ha ricevuto una telefonata anomala dallo stesso, il quale, senza alcuna spiegazione, le diceva che dovevano lasciarsi in quanto voleva ritornare con la sua ex fidanzata. Lei capiva immediatamente che era stato costretto a fare quella telefonata sotto la minaccia di Ignazio Sciurello, suo precedente amante, che non aveva mai accettato la fine della storia e che la perseguitava quotidianamente tanto da costringerla a sporgere delle denunge per stalking. I tabulati telefonici, dati del sistema satellitare dell'auto e le immagini di videosorveglianza hanno consentito alle forze dell'ordine di ricostruire tutta la dinamica dei fatti. Massimo Pappalardo quella notte è stato seguito e agganciato da una punto bianca identica all'auto di Massimo Di Stefano, che lo ha accompagnato a casa di Ignazio Sciurello, dove hanno avuto una discussione. I tre soggetti sono usciti dall'abitazione e con la Toyota Igo si sono diretti nelle campagne paternesi. Giunti in una piazzola di sosta hanno proseguito il diverbio, ma poi Ignazio Sciurello ha sparato quattro colpi di pistola a Pappalardo. I due killer, dopo aver caricato il cadavere in macchina, sono andati incontrati a Poggio Monaco, dove l'hanno spinta in un dirupo. Passati alcuni minuti, sul posto è arrivato Giuseppe Sciurello per recuperare la coppia omicida. Tornati sul luogo con una tannica di benzina, hanno bruciato l'autovettura con il cadavere all'interno. Ignazio Sciurello, agli arresti domiciliari per un altro reato e resosi irreperibile durante le indagini, è tuttora ricercato. Comunica. Codice 202 in atto sul Palermo 98, in appoggio anche alla me. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24. Vigilanza notturna e diurna. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. Continua l'ondata di sbarchi nelle coste dell'Italia meridionale. Dopo i salvataggi dei giorni scorsi, i profughi sono stati distribuiti tra la Sicilia e la Calabria per essere ospitati nei vari centri d'accoglienza del paese. Oltre mille persone da sistemare in 24 ore sul territorio, insieme alle altre 2000 che hanno già raggiunto le coste siciliane. Al porto di Palermo, dopo lo sbarco della scorsa notte di oltre mille migranti, è arrivata questa mattina anche un'altra nave, la King Jacob, con a bordo i primi 100 profughi che sono stati salvati nel canale di Sicilia. In tutto sono 480 i migranti che sono sbarcati nella mattinata nel capoluogo siciliano. Migranti che si aggiungono ai 1169 arrivati nella notte tra lunedì e martedì al porto di Palermo. Nelle prossime ore è previsto infatti l'arrivo dei mercantili Kaifer ed Ennesburg con altri profughi a bordo. Anche questa mattina, ad attendere i migranti, c'era la task force convocata dalla prefettura di Palermo che ha nuovamente organizzato in banchina una zona di prima accoglienza dove i migranti sono stati visitati e rifocillati dopo il lungo viaggio. Ieri notte 1169 persone sono state assistite, la macchina organizzativa ricordiamo è coordinata da sua eccellenza il prefetto Francesca Cannizzo. Su 1169 i migranti soltanto 14 sono stati ospedalizzati per patologie assolutamente minori. In due giornate già sono oltre 3.000 i migranti che abbiamo assistito a Lampedusa, anche lì nessun problema di pandemie, le condizioni sono buone e quindi dobbiamo dare, possiamo dire alla popolazione e a tutti i cittadini di stare tranquilli perché tutto avviene in sicurezza e non c'è alcun problema. C'è lo scafista che getta in mare il corpo di un migrante per darlo in pasto agli squali e anche chi dà l'assalto a colpi di mitraglia alle unità navali italiane che prestano soccorso nel canale di Sicilia. È un libro degli orrori la questione legata ai viaggi della speranza di migliaia e migliaia di profughi ripresi in grande stile negli ultimi giorni anche per le migliorate condizioni meteomarine. L'episodio della mitragliata è avvenuto ieri quando una motovedetta libica ha saltato sparando in aria un mezzo impegnato nei soccorsi, un po' come è avvenuto il 15 febbraio scorso quando quattro uomini armati di Kalashnikov costrinsero la Guardia Costiera a restituire un gommone appena scaricato dal carico umano. E intanto non si arrestano gli arrivi a Porto Empedocle. Ieri giornata di intenso e duro lavoro per gli operatori della Guardia Costiera e Capitaneria di Porto per l'approdo in rapida successione di tre unità navali che hanno trasportato complessivamente 567 profughi. Tra gli arrivi anche due cadaveri di immigrati non identificati provenienti da Lampedusa assieme a 249 profughi a bordo del traghetto di linea Sansovino. Ad accogliere le due bare in Porto anche il prefetto e il questore di Agrigento Nicola Diomede e Mario Finocchiaro. Sempre nel pomeriggio di ieri altri 317 migranti tra cui 47 donne e un minore in prevalenza di origine subsahariana e siriana sono giunti con il pattugliatore Montecimone della Guardia di Finanza che li aveva tratti in salvo nel canale di Sicilia. Dall'inizio dell'anno, compresi gli arrivi di ieri, sono 3.000 migranti sbarcati in occasione di 10 operazioni di trasbordo sbarco coordinate dalla Capitaneria di Porto o Guardia Costiera che hanno interessato 11 unità navali cui si aggiungono 1.456 migranti oltre purtroppo 31 cadaveri trasferiti con il traghetto di linea per le isole Pelagge. A questi vanno ad aggiungersi 24 migranti intercettati in mare o rintracciati a terra in occasione di due operazioni di contrasto al fenomeno migratorio che hanno coinvolto personale e mezzi della Guardia Costiera per un totale di 4.483 migranti giunti a Porto Empedocle dall'inizio dell'anno. E intanto gli agenti della squadra mobile di Agrigento hanno fermato due tunisini presunti scafisti dell'imbarcazione giunta a Lampedusa l'11 aprile scorso. Un altro tunisino è stato arrestato perché nei suoi confronti pende un provvedimento di custodia da parte del Tribunale di Brindisi. Meno potere politico al Presidente grazie a un'asse fra il Governo nazionale e i Big del PD siciliano. E' questa la nuova linea del Governo Crocetta definita la fase 4 della legislatura e dettata dai quattro dirigenti del partito che hanno firmato un patto con il Ministro del Rio. Crocetta così è stato accerchiato dal PD e a Roma per discutere dei 3 miliardi necessari per approvare il bilancio regionale. Sono andati solo Davide Faraone, Fausto Raciti, Antonello Cracolici e Baldo Gucciardi. Il Governatore non è stato neppure invitato all'incontro che di fatto consegna la Regione a un nuovo assetto politico. Segnale che Roma non riconosce più, almeno in questa fase, il Presidente come interlocutore privilegiato. Dopo le uscite del Governatore contro il partito sull'impegno antimafia e contro il Governo sui mancati aiuti finanziari alla Sicilia, è calato il gelo su Crocetta. Ma nel dibattito fra Del Rio e le correnti l'ipotesi di eliminare subito il Presidente della Regione non è passata, principalmente perché manca ancora la finanziaria. E così, dopo tre governi in due anni, ecco la fase 4. Dentro la Giunta, il PD si muoverà attraverso Baccei. Fuori saranno i quattro dirigenti a gestire questa fase politica in raccordo con il Governo nazionale. Scatta così un periodo di verifica. Eventuali K.O. delle riforme a Lars, come accaduto per le province o altri scontri fra Presidente e PD, renderebbero davvero difficile il proseguo della legislatura. A quel punto scommettono i Renziani e i 25 deputati del PD verrebbe chiesto di togliere il sostegno a Crocetta e, sfruttando la linea del tutti a casa, annunciata dai 14 grillini e da Forza Italia, si arriverebbe alle elezioni in autunno. Un'ipotesi però che, almeno per il momento, non viene presa in considerazione né da Arrasciti né da Cracolici, per i quali parlare di voto anticipato sarebbe un suicidio elettorale e si darebbe la sensazione di assecondare un gioco di palazzo mentre la Sicilia affonda. In Sicilia nel 2014 la Guardia di Finanza ha scovato 591 evasori totale, imprenditori e professionisti sconosciuti al fisco che hanno evaso per milioni di euro. Le fiamme gialle dell'isola, agli ordini del generale Ignazio G. Pilaro, ha scoperto oltre 2.200 lavoratori in nero o irregolari e 658 datori di lavoro che hanno commesso irregolarità. 4.226 interventi ispettivi, 974 le persone denunciate, oltre 800 milioni di euro tra sequestri e confische, 40 persone denunciate per usura e 9 arrestate, 35 denunciati per riciclaggio e poi per reati fallimentari, denunciate 242 persone e 10 arrestate. Sequestrate circa 100 tonnellate di hashish e marijuana, 32 chili di cocaina e un chilo di eroina. Denunciate 536 persone, 196 arresti, 19 mezzi sequestrati perché adibiti al trasporto delle sostanze stupefacenti. In un momento storico che risente dell'impatto della crisi finanziaria internazionale sul sistema produttivo, in cui i cittadini avvertono anche il bisogno di una maggiore tutela, non solo per la persona e di suoi beni, ma anche per l'integrità delle famiglie e delle imprese, occorre dare rilievo anche al concetto di sicurezza economica. Sicurezza che la Guardia di Finanza assicura con il controllo economico del territorio, mediante i controlli su persone e merci, per il controllo ai traffici illeciti economici finanziari, quali appunto il lavoro nero, il contrabbando e il gioco illegale, vendita di prodotti contraffatti e pericolosi e truffe. È stato dedicato al messaggio di Papa Francesco, promuovere l'economia dell'onestà, il premio IRCAC per la legalità, giunto quest'anno alla sua ottava edizione. La cerimonia di consegna dei premi si è tenuta ieri, nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, alla presenza del Presidente dell'Assemblea regionale, Giovanni Ardizzone. Presenti fra gli altri, il Commissario straordinario dell'IRCAC, Antonio Carullo, e il Vescovo di Morriale, Monsignor Michele Penisi. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento due cooperative di Palermo, la Progetto Limpo e la Pulcherri Marresse, che pur nelle loro diverse attività hanno in comune un analogo percorso di legalità. La cooperativa Progetto Limpo è stata costituita lo scorso anno da ex dipendenti dell'ipermercato di Partanna Mondello, una struttura commerciale confiscata alla mafia. Nel progetto di rilancio dell'azienda, i lavoratori hanno investito la propria indennità di mobilità e il proprio TFR. E grazie alla sinergia con il sistema Lega Coppe e con le istituzioni, il centro commerciale è stato riaperto. La cooperativa sociale Pulcherri Marresse opera nel centro storico di Palermo, gestisce il complesso monumentale del centro San Mamiliano, che comprende il bellissimo oratorio di Santa Cita e ha come scopo la valorizzazione della multiculturalità del quartiere. Fra le sue iniziative, la creazione di un'orchestra e un coro di bambini, che rappresenterà nel Vaticano ad Expo 2015. Nel corso della cerimonia sono state assegnate anche tre menzioni speciali, alla cooperativa Telimar di Palermo, all'arancia rossa Castiglia di Francofonte e alla cooperativa Primavera di Geraci Ziculo. Nel suo saluto il presidente dell'Arsi, Giovanni Ardizzone, ha sottolineato l'importanza di assegnare un premio a chi ha il coraggio di continuare a lavorare con l'onestà in una terra come la Sicilia, tanto bella quanto difficile. Palermo come New York. Nella piena tradizione americana, il capologo siciliano si appresta ad avere un supermercato aperto 24 ore su 24 tutti i giorni. Il plesso, che lavorerà anche di notte, è il Market Carrefour di Via Libertà 30. Il supermercato seguirà la modalità di self-service, che non prevede la presenza di personale al banco dell'ortofrutto dei salumi e i clienti acquisteranno prodotti già confezionati. Gli impiegati saranno alle casse, mentre sarà garantito il servizio di vigilanza. L'inaugurazione della nuova formula è prevista per giovedì 23 aprile, dove dalle 21 alle 2 sono previsti diversi eventi e degustazioni. Sinora, il Carrefour di Via Libertà aveva chiuso al pubblico alle ore 20 e 30. A lavorare di notte saranno circa sei dipendenti già presenti nell'organico. Palermo si conferma la prima città del sud Italia ad aver adottato la formula dell'orario non-stop americana. La decisione è stata presa dopo un'attente indagine di mercato, che aveva visto come i cittadini, che lavorano per lo più nelle ore notturne, avessero la necessità di uno store aperto tutta la notte per acquistare beni alimentari. Inoltre, a Palermo è già presente la movida notturna, composta maggiormente da locali africani e indiani, aperti sino a tarda notte, che allietano le serate dei giovani siciliani e non solo. Sull'apertura 24 su 24 dello store Carrefour di Via Libertà si è pronunciato anche Massimo Furnaletto, responsabile di dinamiche commerciali, il quale sostiene che la risposta di Palermo sarà positiva. È una città che vive di notte e in questo modo vogliamo offrire un servizio in più, come già accede nelle più moderne capitali europee del mondo. Sinora, la catena dei supermercati, presente in Italia da più di 40 anni, ha adottato la formula full-time nelle città di Milano, nei pressi di Piazzale Principessa Clotilde, nella zona di Porta Nuova a Torino e in via Madame Cristina a San Salvario. Adesso si attende di capire quale sarà la reazione dei sindacati, dei lavoratori e le associazioni dei negozianti ed esercenti. La sua prima rete in Serie A l'aveva messa a segno contro il Napoli. Un tiro dai 35 metri e la palla finita in rete dopo essere rimbalzata davanti al portiere. Domenica un altro ero gol. Un sinistro imprendibile dai 25 metri che battendo l'incolpevole Carnezi si ha permesso a Palermo di mettere la partita sui binari giusti. Due gol quasi identici, che sono frutto dell'istinto e delle qualità calcistiche di Lazzar. Il difensore Rosanero, che è intervenuto in conferenza stampa al tenente onorato, non ha nascosto la propria soddisfazione per i gol realizzato e per il ritorno alla vittoria del Palermo, e promette di riprovarci ancora, sicuro dei propri mezzi e di un processo di maturazione che in questi mesi hanno accompagnato il suo cammino, grazie alla fiducia del mister e dei suoi compagni, che in alcuni momenti lo hanno aiutato a superare i suoi limiti e a migliorare le sue prestazioni. Il momento negativo del Palermo, ha raccontato, è stato vissuto con la consapevolezza che certi periodi nel calcio possono capitare e le critiche del presidente addetto sono servite a dare la carica alla squadra. Non fare risultate per sei partite sicuramente non ha fatto piacere, ma la vittoria contro l'Udinese può rappresentare la svolta. La partita di domenica scorsa è evidenziato che Palermo non è solo Di Bale e Vasquez. Sono tanti i giovani di talento, ha puntualizzato la ZAR, che anche se non trovano molto spazio, riescono a dimostrare il loro valore quando scendono in campo, come Ciocer, ad esempio, che proprio domenica ha trovato il suo primo gol. La salvezza ormai è stata raggiunta, ma per la ZAR il campionato non è ancora finito. Noi, assicurato, continueremo a giocare con dignità per non fare brutte figure. Nato come esterno alto, il difensore marocchino è cresciuto molto nelle due fasi, quella offensiva e quella difensiva, grazie addetto a Iachini, che impiegandolo nella difesa 5 gli ha saputo ritagliare una posizione ideale in campo sfruttando al meglio la sua corsa. Farà parte del Palermo del domani, la ZAR, un progetto avvizioso a dire del presidente Zamparini, che lo rende felice. Sapeva sin dall'inizio ha precisato che sarebbe approdato in una società solita e spera per il suo futuro di vincere qualcosa di importante con la maglia rossanero. Archiviare il derby, perso malamente contro il Catania, smaltire la delusione e guardare avanti. Con questo spirito il Trapani prepara la sfida interna contro il Bari, un vero e proprio scontro salvezza contro una diretta concorrente più avanti in classifica di quei tre punti e che i Granata contano di conquistare per avvicinare ulteriormente la fatidica quota 50. Un impegno da non fallire per evitare di essere risucchiati nei meandri delle zone a rischio della graduatoria. Contro i biancorossi pugliesi di scena sabato al provinciale sarà la prima di sette finali da giocare con il coltello tra i denti, senza fare calcoli di sorta che rischierebbero di togliere concentrazione e protagonisti che scenderanno sul terreno di gioco. Ne è conscio ma ti Aramu, che rivolge lo sguardo proprio all'impegno contro i galletti di Nicola. Il Bari è un'ottima squadra, ha detto, tuttavia quella di sabato sarà una gara che dovremo provare a condurre noi, anche perché giochiamo davanti al nostro pubblico. Sotto il profilo personale nelle ultime settimane ho avuto la possibilità di esprimermi al meglio, ha detto. Adesso gioco più avanti rispetto a prima. Il Dipartimento di Polizia ha avviato un'indagine sull'agente Fabio Tortosa dopo il suo post su Facebook. Io ero quella notte alla Diaz, ci rientrerei mille volte. Faremo presto chiarezza e valuteremo il comportamento del poliziotto, ha detto il Ministro dell'Interno Alfano. Le mie parole sono state travisate e si difende Tortosa. Oggi alle 16 a Milano i funerali di Stato per il giudice Ferdinando Ciampi e l'avvocato Lorenzo Clari Sappiani, uccisi giovedì scorso da Claudio Giardiello in tribunale. Sarà presente il Presidente della Repubblica Mattarella per la terza vittima, Giorgio Erba, esecue in forma privata a Monza. 800 lavoratori inesistenti e 50.000 giornate di lavoro mai svolto per un milione di euro sottratto all'Inps. Sono le proporzioni di una truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Cosenza, dietro alla quale c'erano due imprenditori. Avevano dichiarato di possedere terreni agricoli ed emesso fatture per lavori mai realizzati. L'Unione Europea contro Google per presunto abuso di posizione dominante. Le autorità di Bruxelles si accingono ad avviare un'azione formale nei confronti del famoso motore di ricerca che rischia una multa da 6 miliardi di dollari. Se le posizioni della minoranza rimarranno inamovibili, non c'è alternativa. Porremo la fiducia. Lo ha detto il Vice-Segretario PD Deborah Serracchiani in vista dell'Assemblea del Gruppo alla Camera che discuterà dell'Italicum. Un centinaio di deputati sarebbe orientato a votare contro la nuova legge elettorale. Condanno il Pontefice. Lo invito a non ripetere questo errore. Durissima presa di posizione del presidente turco Erdogan dopo le parole di Francesco sul genocidio armeno. Gli Stati Uniti invece si schierano con il Papa. Il massacro armeno, spiega Washington, è un fatto storico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.